Allora, qual è il vostro disagio? Eh, che mi fuzzano i piedi Pure l'alido, non scherzo Sì Sua moglie vuole il divorzio per questo Sì, non si forza più nemmeno le sue scorreggie Ma io ho la soluzione ai vostri problemi Cosa sono queste? Queste sono delle candele profumate per la vostra casa Va bene? Madonna mia Guarda Camilla, guarda Non vuoi aspettare Madonna mia Non ti si può stare vicino Puzzi troppo Non è successo niente Don Fra, qua la gente si sta sentendo male Aprite le finestre Carle Lava tu colo sgrassatore Eh 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 Madonna mia Ma è normale Che non si alzi la fiamma La puzza è talmente grande Che la candela ha difficoltà ad accendersi Eh Sti candeli non servono La puzza c'è ancora Si faccia una doccia Si lavi i denti Non mi sono mai lavato La verità è che sono costretta ad indossare la maschera anti gas quando sono chiusa in casa con lui Capito? Uso il tonfo della spazzatura come diodorante Chiami una ditta specializzata Faccia disinfettare la casa con lì dentro Ok Va bene Va bene Comunque siete tutte e due molto carine Dopo vi offro un caffè al bar Va bene Scommer tu però che dici le stesse cose a tutte le donne che vedi? E' vero